E' stato ritrovato questa mattina nel canale Marchesana al corpo senza vita di Corrado Savio. Il pensionato 78enne di Trino Vercellese era scomparso da casa a martedì scorso. La sua bicicletta era stata ritrovata presso il canale Magrelli a Piovetto di Morano per cui le ricerche si erano concentrate in quella zona. Da due giorni i vigili del fuoco di Casale, Vercelli e Alessandria, i volontari della protezione civile, i carabinieri, le unità cinofili di Torino e il nucleo sommozzatori di Milano scandagliavano il territorio. Questa mattina il ritrovamento da parte di un guarda canale del rio Marchesana in località Cascina Nuova. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi sull'accaduto e si interrogano sull'effettiva volontà dell'uomo di togliersi la vita. Ieri al processo per lo scandalo calcio scommesso il procuratore federale Stefano Palazzi ha chiesto la retrocessione dell'Alessandria Calcio. Se la sentenza dovesse essere confermata i grigi si troverebbero l'anno prossimo a giocare in seconda divisione. L'avvocato difensore dei grigi Giovanni Trombetta ha dichiarato che di fronte alla responsabilità diretta non poteva esserci altra richiesta. Una cosa che fa ben sperare, ha aggiunto l'avvocato, è che non sono state richieste ulteriori aggravanti come punti di penalizzazione nel campionato successivo o addirittura al rischio di ritrovarsi in terza categoria, cosa che può succedere a Ravenna. Il processo è proseguito oggi con gli interventi degli avvocati difensori delle altre società. Come previsto la sentenza definitiva dovrebbe arrivare lunedì prossimo. domani entreranno in azione le ruspe per la realizzazione della 35 Ter, la nuova via di collegamento tra Sarravalle e Novi. La strada, lunga circa 4 km, sarà composta da due lotti distinti e unirà la provinciale 35 dei Giovi, in vicinanza del casello autostradale della A7 di Sarravalle-Scrivia, con la provinciale 35 Bis dei Giovi di Sarravalle vicino alla zona industriale di Novi Ligure. Dalle 8 di domani mattina e fino al termine dei lavori il traffico sarà quindi deviato e il limite di velocità sarà ridotto a 30 km orari. La fine dei lavori è prevista per la primavera del 2013. Questa sera giovani attori dai 12 ai 18 anni animeranno il centro storico di Cremolino. Nell'ambito della rassegna Cremolino Teatro e Musica andrà in scena alle 21.15 in piazza Vittorio Emanuele, L'Uomo Invisibile. La commedia, scritta da Carla Balletti, sarà interpretata dalla compagnia I Guitti Giovani. Il costo del biglietto per Assissero lo spettacolo è di 5 euro. E per oggi da Alessandria è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci ai prossimi collegamenti.